Quello che va, l'accordo col governo che estende alla quattordicesima, la somma aggiuntiva anche alle pensioni di circa 1.000 euro mensili, nelle marche sono 120.000 pensionati totali interessati. Poi quello che non va in odi con la regione, le categorie dei pensionati di CGL, Cisle e Will hanno fatto il punto. I motivi di attrito con il governo Ceriscioli sono il Fondo per la non autosufficienza non finanziato, la trasformazione dei piccoli ospedali in ospedali di comunità, solo due ore di assistenza diurna, quindi le case della salute per ora ancora sulla carta, a sintesi dell'integrazione sociosanitaria, un budget da 170 milioni di euro che non riesce a garantire l'assistenza, salute mentale, dipendenze patologiche, cure domiciliari, i settori più interessati. I pensionati dopo dieci anni riescono a portare a casa un qualcosa e questo qualcosa è molto importante, soprattutto per quello che riguarda le pensioni più basse. Con un'integrazione di una quattordicesima, tra virgolette, mensilità. Poi c'è l'ampliamento della nota xarea, cioè viene portata agli stessi livelli dei lavoratori dipendenti. E c'è in discussione anche un discorso di per equazione delle pensioni, cosa molto importante. E nota dolente a cui la Corte Costituzionale ha dato anche una risposta, ma non si è verificato quello che si attendeva. Quindi la mancata applicazione del criterio di riequilibrio regionale favorirebbe le rendite di posizione e la domiciliarità. La domiciliarità per noi è importantissima, nel senso che abbiamo registrato che dal 2008 ad oggi c'è 3.500 utenti in meno che vengono serviti. Se poi ci mettiamo il dato che soltanto il 30% entra nel circuito, diciamo, del pubblico, dell'assistenza, il 70% delle persone rimangono senza una risposta. Quindi rimangono non autosufficienti a casa senza nessuna risposta. L'unica risposta sono i familiari. La non autosufficienza interessa 70.000 persone, queste le richieste. Gli anziani interessati a questo problema e le loro famiglie sono circa 70.000, sono quasi la terza città delle marche in numero di presenza. E a tutt'oggi, a distanza di tre mesi, tre mesi e mezzo, la regione ancora non ci ha risposto, né sulla piattaforma, né chiedendo una risposta all'incontro che avevamo chiesto. Tenete presente che nella proposta c'era la richiesta di formalizzare un fondo regionale specifico sulla non autosufficienza. Siamo una delle poche regioni, anzi, siamo la prima regione del sud a non avere questo fondo. Tutte le altre regioni ce l'hanno.